salve a tutti ragazzi e bentornati in questo secondo episodio di minecraft edition su playstation 4 sono sempre accompagnati nicolò e di suo fratello cristiano allora ragazzi purtroppo noi ci siamo fatti una casetta c'è una mini casetta però purtroppo non c'è registrato e quindi non tutto non c'è registrato quindi è successo il casino abbiamo fatto tutto senza di voi abbiamo preso pure abbastanza legna perché infatti ecco le prove ecco le prove che tutti gli alberi sboscati direi da andare a dormire sì andiamo a dormire e abbiamo fatto anche i letti comunque andiamo a dormire prima ci ha fatto un bug ragazzi ci ha fatto un bug prima che il flaio stava dormendo per terra alcune notte anche volando lì c'è un maledetto che stava mettiamo il cartello sì perché comunque questa casa è sotto terra quindi io volevo andare a prendere della della cosa come si chiama della pietra poi ce l'hai il piccolino di pietra? no vabbè nicio ho tre cartelli non ha fatto i trenzi sa perché? no così spieghi solo legna vabbè non ce l'ho io un piccone eh anche io non da fare non ce l'abbiamo ma guarda quante le chiavede non lo fate? eh ma lo vabbiamo non sta a vedere? ah comunque ragazzi tieni ti ho perso il cartello ho notato che la tastiera non ve la fa vedere cioè o dove sta? scusate se sentite mia madre però oh mi fa scrivere aspetta per forza te eh sì per forza te che ci scrivo? eh scrivi c'è casa? eh casa vai scrivi casa casa sì sì casa ma che sta a fare? vai fine casa ok poi devo mettere del legno così mi prendo due piccoli vabbè uno mi prendo un piccone che devo almeno ce l'ho accorgiata questo non è staccato eh perché comunque ragazzi ho tolto la musica perché nel nell'altro video era un casino io la faccia i picconi eh è regno però no no la scista che ho tanto mi prendo un po' di... la fornace serve? eh infatti che sto fa? sto prende la pietra proprio per la fornace no? ok ahiiiiiiiiiiiii iiiiiiii iiiii e poi guarda un attimo intanto vado a rimediare un po' di ciò per la fornace noi intanto abbiamo l'allevamento di tutti gli animali esistenti l'intensore non si è città quindi possiamo fare due scarponcini e vabbè poi vabbè ce la faremo completamente l'armatura è bella anche se ci potremmo fare non so se mi sbaglio ma se mi sbaglio i scarponcini di diamante no no ci servono 4 però il piccone di diamante di prima nico non ci vedi? no però quanti ne ho presi? 21 ok io direi che fa qui una scalinata di legno che sali meglio no vabbè lasciamo stare come facciamo a salita? beh uso la terra oh salì calmo calmo ecco c'è una 64 io devo mangiare la carne feruta a me però non mi dovrebbe fare affetto perchè io sono zombie eh vabbè a sto punto devo mangiare anche la carne costa quindi se muori quindi se muori tu perché l'hai tappata? beh perchè se ci caderemo oh ma te puzzi che ricordo ma puzzi ma perchè ne avessi 3 dei cartelli? vabbè che ne so l'altro che ci facevo? che ne so le potevamo conservare io voglio forse allora che ci dobbiamo qua? la cosa ah forno ne faccio 3 fanno 3 fanno quante te ne parlo vabbè non mi torno mettile qua invadi invadi ma col dispensare che ci facciamo? che ne so abbiamo rotto dei ricordi a quel video si di mercoledì? di mercoledì no di lunedì allora qui dai bisogna mettere anche della legna ce l'ho io per forza ce l'ho io mettine che ne so 7 vabbè non ce la metti tanta so mettere qua c'è il bistecchi i bistecchi ragazzi dovremmo andare anche un po' in miniera intanto io qui cado c'è un altro po' muoro no dico il tuo masella ragazzi non si dà niente? nick io devo fare un piccone di legno comunque ho un flamma io c'ho la pietra dammela 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 ho fame molta fame e te dammi la pietra ma scusa perché non ce la facciamo di ferro? c'è il ferro c'è un buon sei apposta due piccone a testa scomparso no l'ho ridata che sta all'entrata uno io ce la faccio ma è vero ok di è cotto qui? quasi ma perchè l'hai messo 28? è troppo guarda che fail che ho fatto ok ma perchè? poi prendo sto bollo questa costoletta io ho da miniera sì già miniera dai vai certo ancora non siamo pronti ma che c'è qui in posto sarta? a parte che abbiamo fatto due entrate ma dai è meglio no entrano più mob più io ho da miniera ok se l'hai delle torce prima quando l'avevamo registrato ma non l'aveva registrato scusate il ripet... come si dice? ripetizione di parole eh avevo visto una miniera non c'era una miniera è vero? ecco qua eccola 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 sì ma io l'ho domato con un piccone di legno a parte che siamo tutti spolvisti non si vede niente io non faccio d'oro ecco la d'oro e dammo pure a me non ho capito hai preso in torno? eh? ecco la d'oro aspetta me ne faccio pure de... 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 eh pure a me eh oh eh va taffa è temer di da ferro ce l'hai? no vabbè ce l'hai di pietro vabbè i torci servono torci non ce l'abbiamo dovremmo andare lì bisogna... bisogna cuocere il legno proprio per chi ci dà l'ana... ci... ci sta un altro tipo di carbone ah sì quell'altro anatride ecco anatrice an... 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 anatracite eccola quindi bisogna cuocere qui il legno poi l'ho mangiato, l'ho mangiato, l'ho mangiato, la mia bestia eh eh... la io cuocio direttamente il ferro cioè il legno perchè servono... ah ah ah... fanno fanno... che rigu' questo è qui ragazzi se vi taglio il video e poi quando è cotto... ma che cosa? il... ah l'anatrice la... come chiamiamo il video lo facciamo vedere bella eccoci ritornare ragazzi eh si è appena cotto quella specie di carbone si è appena cotto però ragazzi abbiamo una... bella sorpresa una bella sorpresa ragazzi abbiamo trovato il villaggio cioè allora noi ci siamo a mattini per trovare questo villaggio e... io l'ho trovato cioè l'abbiamo trovato l'abbiamo trovato l'abbiamo trovato tipo una specie di croce sì infatti sì è vero non c'è una croce eccola prendo tutto qui eh non abbiamo fatto niente noi eh stiamo solo girando ecco la croce allora prendo anche le torce qui non si sa questo significato io lo scavo tante volte c'è una cesta oh no Flade venite perchè qui le cose non me le fa prendere più ho l'inventario pieno sì vabbè lascio che ne so no vengo vengo lascia i tnt che non ce l'hai accendita no vengo vengo vabbè si può sempre accendere la pietra rossa chi? è vero ce l'avete una torcia? una torcia rossa? no allora avevo detto accendere mattoni in che c'è faccio questi mattoni eh quando abbiamo rotto i denti vabbè dai Flavio devi vieni a prendere queste cose eh cosa è arrivata? allora ti dico la strada perchè si perchè io cioè l'ha visto veramente l'ha visto Flavio bisogna prendere pure sti cartelli poi pure i grandi si è vero è molto grande aspettami aspettami dai prendi ste cose ah e ragazzi non è finita qui eh? abbiamo anche trovato una bella miniera con carbone e ferro si ma però c'è un creeper che ne sarebbe si vabbè eh però sarebbe questo eh mettici in cartello così poi nel prossimo episodio andiamo a esplorare ecco ecco lì lì vai metti il cartello ecco e la vediamo eccolo oh intanto lì maledetto dai schiappiamo ok dai andiamo a questo villaggio aspetta niente devo mangiare tanto ho desiderato anche io ma vabbè che se ne frega dopo questo non ti fa più effetto devo correre aspetta un attimo io voglio andare per piccoli no e te me ne ti da uno eccolo là vabbè lo vado dopo dopo si intravede ecco la roce ma che sta a dimmi da stante qua oh eccolo ta 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 eccolo la ragazzi guardate quanto è grosso bisogna andare per un'altra roce oh ma chi è allora non porto qualcuno oh so bug ma non penso so bug ragazzi il parkurista il parkurista ha un fake un fake ma ci sta la casa che c'è stato qui che ci sta stiamo a ricordo si c'è c'è una c'è una casa che sta n'acqua comunque non ho visto la skin dello zombie villaggiero ma non esiste beh però la dovrebbero fare la mojang dovrebbero anche sistemare gli arredamenti perché veramente ne sono molto scarsi di arredamenti eh no non c'è una niente nooo quali c'è sta una casa sta n'è la ragazzi ci dobbiamo prendere una casa lui sarà la nostra io intanto mi dispiace a voi però voi andrete guardate le case in mezzo all'acqua guarda il castello però questi che hanno fatto una buona costruzione perchè così i zambi non vanno a traccare allora scegliamoci una casa vabbè una delle più belle la più semplice ecco il castello quale? io direi che è il castello no no aspettate quale è il castello? ma chi? fa schifo infatti si e poi è piccolo che è qua? è piccolo perché è sto schifo? è vero ma è un villagero forse ma chi è villagero? si ma chi? è un villagero un villagero ma si ma c'è uno smeraldo per 5 euro oh neanche mi fa aprire la porta perchè sta qua ah cla mi piace mi piace no mi piace peccato che non c'è quella casa che ho a cesta eccola ecco scegliamoci questa ma se invece facciamo una casa per una però sono troppo piccole allora prendete una planta noi ce ne stanno tante allora dobbiamo scegliere prima che viene io direi quella lì in mezzo all'acqua si e vero? almeno un altro costruivamo un passaggio di cobblestone ma pure di terra si però pure questi non potevano costruire un porticato ma come fanno ad entrare? ma come fanno ad entrare? ma loro sono come Federica Pellegrini ma come faccio ad entrare? cioè no guardate ragazzi dove è la porta ma come fanno? sto qua non uscirà mai più vedete di spiegare ho finito la casa eccola lì la casa no la sabbia no la sabbia no la sabbia no è sfumata ok io ho i blocchi pari pari che arrivano a sta casa ah si facca la casa e fermo ok io sono dentro ma quale casa stai scusa? quella lì che abbiamo detto noi quale? oh eccomi oh no l'ho cascata come un broffolo non ti è finita bisogna fare così ah ecco di là ti ho visto ecco vieni faccio una nuova cosa faccio una nuova cosa ok ragazzi ecco la nostra casa dei villageri che avete rubato dei villageri che abbiamo rubato i villageri però ci saranno tutte le torci che stanno dai si vabbè oddio un villagerio eh qui ci stanno i villageri dormiremo insieme ai villageri ma ma si è reale fanno pure un po' di confine che questi poveretti tanto muo' dicono ecco ci hanno devastato no in realtà qui ci sono di solo oh no oh no vabbè sono di solo quel verso oh no mmm è un'altra cosa la dobbiamo andare a dormire io c'è sto ok dormiamo oh ahahahahah con la porta aperta potrebbe pensare entrare un creeper e fare le spalle questi poveretti ma la pesa tu sta gesto no guarda agrafi e villager agrafi questi impazzini cittadini c'è troppo no consiglio c'ho mai l'acqua troppo scomodo però vivere aveva fatto un percorso eh io invece no eccolo qua qua si dove era altro allora lì quello lì che vuole vuoi vuoi qualcosa per qualcosa allora vuole io qua ho fatto un percorso eccolo da qua uno smeranto per la pietra rossa allora se io spacco un pezzo di pietra rossa mi dà una crea aspetta questo è un attimo a rompe perchè? perchè aspetta metti la porta qua ah perchè? a passaggio ah ok rompo la porta eh schifoso oh vai per morire oh Nii che sei qua Nii aiuto a me faccio un bunker esco da sotto ok bravo bravo non può pure il villager eh un maiale io vieni un po' un po' il villaggio per rimanere no no ok via esci esci no perché eravamo di oh eh per questo a noi di Egrice è successo un casino che avevamo un villager dentro casa e in pratica i zombie volevano assolutamente uccidere erano un sacco di zombie e quindi dopo non uccidere è arrivato un creeper e boom l'abbia costruita la madre ma è stato un casino non c'è ma ma che è quella spazio di sabbia aspetta ma quanti vuoi vedere gira del blu che è quello sotto ecco vedi quella che sabbia è sabbia no quella è la blu devo fare assolutamente una cassa dove questa questa eh non è sabbia mi che è blu è il colore dell'acqua ma che prova un attimo ok vabbè 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 andiamo in casa nostra ecco dai vieni abbiamo terminato di video eccoci qui ecco ecco signor signor finalmente l'amato posto ce l'abbiamo la io ah bravo bravo vabbè fatti il selfie but first la non so mhm bene ragazzi per questo episodio è terminato noi ovviamente ci vediamo al prossimo episodio della serie di minecraft mi raccomando lasciate dei pollicioni in su ciao bella